Adesso che cosa si fa? Ha fatto risuonare più volte la domanda di tutti il Vescovo di Ascoli Giovanni d'Ercole durante la messa in suffragio delle 35 persone che hanno perso la vita a causa del terremoto nelle Marche. Le prime risposte sono il silenzio, l'abbraccio, la preghiera. Poi c'è l'immagine di Giobbe che perse tutto ma che non venne abbandonato da Dio. Il Vescovo ha raccomandato di non perdere coraggio. Il terremoto con la sua violenza può togliere tutto, tutto eccetto una cosa, il coraggio della fede. Questo è il momento della speranza. Insieme ha detto Monsignor AdErcole ricostruiremo le nostre case e le nostre chiese. Un giorno le campane riprenderanno a suonare e sarà la Pasqua. Nel primo giorno drammatico il Vescovo ha già visto un segno che indica come la morte sia sconfitta dalla vita. Il primo giorno del terremoto era verso le 18, 18 e 30. Mi sono avventurato solo con un amico perché volevo andare in chiesa a vedere cosa era rimasta. Era piena di macerie. No, non vada Vescovo che è pericoloso. No, io vado perché devo andare a recuperare il mio crocifisso. Questo crocifisso viene da lì. Nella stessa ora, a due metri dalla chiesa, i vigili del fuoco stavano recuperando due bambine. Una, la più grande, Giulia, era riversata sulla più piccola Giorgia. Giulia morta, Giorgia viva. Erano abbracciati. È l'abbraccio tra la morte e la vita. Ma a me sembra che abbia vinto la vita. Chi avrà dubitato della bontà di Dio avrà perso tutto. Oggi i riflettori sono accesi, domani si spegneranno, ha ammonito il Vescovo di Ascoli Piceno, che vuole essere un papà in mezzo alla gente. Non abbiate paura, ha concluso, non vi lasceremo soli. Le stesse parole pronunciate poco prima dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in visita ad Amatrice.